L'Abruzzo è a 5 stelle, questo è il dato politico inequivocabile che esce dalle urne del voto per il rinnovo del Parlamento. Se i grillini vincono, anzi stravincono, sfiorando il 40%, se il centrodestra tiene e resiste all'ondata, anzi allo tsunami pentastellato, conquistando due collegi uninominali, tutti all'ombra del Gran Sasso con Martino e Quagliarello, il vero crollo, che è quasi un'apocalisse, è quello del Partito Democratico. Neppure l'impegno in prima persona del presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso ha potuto evitare una sconfitta che va oltre non di poco il dato già pessimo nazionale. Il PD si è liquefatto sotto la spinta al cambiamento dell'elettorato, che in massa si è recato alle urne con un'affluenza che è andata ben oltre il 70%. Il voto perciò apre uno scenario inedito sia a livello nazionale, dove però al momento sembra difficile che si riesca ad avere un governo e dove si guarda con attenzione alle prossime mosse del presidente della Repubblica, sia a livello regionale. L'assessore Donato Di Matteo non ha dubbi d'Alfonso deve dimettersi. Si deve dimettere, è un segnale serio di una persona che prende atto che lui ha perso, non è più quel leader che lui ha impersonificato, ha creduto di rappresentare. Si deve dimettere, deve creare le condizioni perché perlomeno in questa sconfitta di una dimostrazione di umiltà, una dimostrazione di serietà e una dimostrazione una volta tanto di coerenza rispetto ai dati che sono usciti fuori. Massimo Cialenti è ancora più netto, invitando, anzi esortando, un repulisti generale nel PD a partire dal segretario. Auspico solo che il PD vada all'opposizione, noi abbiamo bisogno di una vera cura disintossidante. Io auspico francamente che si dimetta oggi stesso Renzi, che si dimettono tutti fino all'ultimo segretario di circolo, il più sperduto dei paesi e si faccia quello che non si è voluto fare, cioè un vero congresso che può durare 2, 3, 4, 5 mesi in cui si cominciano a dibattere i temi. Perché la verità è questa, guardate, non rientra Padoan, Padoan ce la fa per un soffio, restano fuori ministri come Minniti e Franceschini che oggettivamente hanno lavorato benissimo. Quindi è proprio un vento, gli italiani hanno detto levatevi, questo è, levatevi ne possiamo più. Ginobla invita tutti alla calma e a non sfasciare definitivamente un PD agonizzante. Resta però la critica al modo con cui è stata condotta la campagna elettorale e al tipo di comunicazione che è stata fatta rispetto al governo della regione di questi ultimi 4 anni. C'è un'aria che in tutta Europa gira che è quella di un voto anti chi governa. Io credo che insomma qualche volta non svolgere un ruolo di governo permetta una riflessione interna, una presa di coscienza, una maggiore umanità nel fare politica, non so se lei è d'accordo con me, ma partendo dalla nostra regione e poi in Italia dove si sono fatte politiche muscolari i risultati sono stati più deludenti di altri posti. C'è bisogno anche, quando qualcuno dice magari che i grillini non sono conosciuti, in parte è vero, però che non facciano politica che non ascoltano la gente, che non le incontrano, non è vero.